Il ricordo del martirio armeno vissuto cento anni fa, ma anche la proclamazione a dottore della chiesa di San Gregorio di Narek, mistico, poeta, filosofo. La Domenica della Divina Misericordia è stata segnata da un rito intenso celebrato dal Papa in San Pietro insieme con tre patriarchi armeni giunti in Vaticano per l'occasione. Nel suo saluto Francesco ha usato toni forti, ricordando che questo è un tempo di guerra, una terza guerra mondiale a pezzi, segnato da crimini e massacri a motivo della fede o dell'appartenenza etnica. Il suo è stato un elenco drammatico. Vengono atrocemente uccisi, affermato, decapitati, crocifissi, bruciati vivi oppure costretti ad abbandonare la loro terra, nell'indifferenza collettiva e anche nel silenzio complice, oggi come in passato. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del ventesimo secolo. «Essa ha colpito il vostro popolo armenno, prima nazione cristiana, insieme ai siri cattolici e ortodossi, agli assiri e caldei e ai greci. furono uccisi vescovi, sacerdoti, religiose, donne, uomini, anziani e persino bambini e malati indefessi». Non abbiamo ancora imparato, ha aggiunto il Papa, che la guerra è una follia, una la strada da percorrere, quella della memoria, perché nascondere o negare il male è come lasciare che una ferita continui a sanguinare senza medicarla. «Con la ferma certezza che il male non proviene mai da Dio infinitamente buono, radicati nella fede, professiamo che la crudeltà non può mai essere attribuita all'opera di Dio e per di più non deve assolutamente trovare nel suo santo nome alcuna giustificazione». Dopo il saluto alla proclamazione di San Gregorio di Narecca, dottore della Chiesa, è la celebrazione della Messa con il Vangelo di Giovanni letto in Armeno. Papa Francesco ha ripercorso il racconto sull'incredulità di Tommaso e l'apertura di Gesù verso il discepolo che invita a toccare le sue piaghe, un modo per entrare nel mistero del suo amore misericordioso. «La malvagità umana può aprire nel mondo come delle voragini, dei grandi vuoti, vuoti di amore, vuoti di bene, vuoti di vita. E allora ci domandiamo come possiamo colmare queste voragini. Per noi è impossibile. Solo Dio può colmare questi vuoti che il male apre nei nostri cuori e nella nostra storia». Al termine della Messa il Papa ha consegnato un messaggio ai tre patriarchi armeni nel quale ha auspicato la ripresa di un cammino di riconciliazione tra il popolo armenio e quello turco per offrire alle nuove generazioni un futuro migliore, in modo che il sacrificio di molti diventi seme di giustizia e di pace. Grazie a tutti.